Cari cittadini, nella consapevolezza che ognuno di noi può portare nel cuore gioie, fatiche, lutti, rabbia, sogni, le festività natalizie e l'arrivo del nuovo anno rappresentano sempre un momento importante di riflessione ma anche di bilanci. Dovete sapere che lo spirito che mi anima è sempre positivo e fiducioso e mi spinge a guardare lontano per la nostra città. E allora colgo l'occasione per augurare a tutti voi, miei concittadini, un sereno Natale a voi e le vostre famiglie. Buon Natale a tutti i nostri giovani che sono speranza per il futuro della nostra città. I nostri giovani meritano attenzione, meritano opportunità, è un bene immenso che è quello che cerco di trasmettere loro ogni giorno. Buon Natale ai nostri bambini che sono la ricchezza delle nostre case, la ricchezza della nostra città e speranza per il futuro. Buon Natale ai nostri anziani, sorreggiamo il passo a volte faticato dei nostri anziani e stringiamoli a noi più che mai, soprattutto per le feste di Natale. Buon Natale a tutti voi miei concittadini, sono certa che questo Natale, le festività e soprattutto l'arrivo del nuovo anno possa portare in noi la volontà e la speranza e la forza anche di collaborare per il bene della nostra città e lavorare tutti insieme per questa nostra comunità che merita davvero tanto. Ancora Buon Natale!